signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e permettetemi di farmi qualche domanda i vostri giocatori si lamentano perché oramai dopo anni andare nel dungeon a picchiare i mostri è diventata un'esperienza noiosa oramai i personaggi del party sono diventati così potenti che difficilmente incontrano qualcosa che li possa realmente impensierire vorreste fare qualcosa di più gretto magari qualcosa più horror ma il vostro party continua a insistere sull'eroic fantasy non dovete preoccuparvi perché il master kai alla soluzione per voi benvenuti nel nega dungeon nega dungeon è uno di quei termini che molto spesso viene usato a sproposito all'interno del mondo del gioco di ruolo e che porta a definire come nega dungeon cose che in realtà non centrano realmente con il nega dungeon per quanto abbiano degli delle affinità di qualche tipo per voler parlare chiaramente diciamo che quando si parla di nega dungeon non ci si riferisce a specifiche proprietà meccaniche di un sistema oa specifiche questo gruppi di quest ma è più che altro un tipo di presentazione della quest possiamo dire che un tipo di presentazione della quest è basata su un'estetica che è comparabile a quello che è l'horror ma inteso per giochi meccanici o comunque giochi ad alta dose di combattimento diciamo che il nega dungeon non è uno specifico tipo di dungeon ma uno specifico modo in cui il dungeon viene presentato al tavolo e adesso probabilmente siete più confusi di prima vediamo di scendere nel concreto facendo qualche esempio la classica presentazione del dungeon è una struttura labirintica in cui vivono i mostri pieno di pericoli che soltanto i più abili e i più coraggiosi possono arrischiarsi ad affrontare e i pg dovranno andare eroicamente all'assalto di questa struttura sconfiggere i mostri recuperare il tesoro qualche oggetto importante ai fini della storia per poi uscire e venire acclamati come eroi per aver sconfitto i pericoli del dungeon ci possono essere infinite variazioni su questi elementi di base ma nel 99 per cento questo è lo schema del classico dungeon dell'eroic fantasy il dungeon è il luogo dove risiede l'avventura e chi va nel dungeon è un eroe il nega dungeon è il luogo in cui vivono le creature la cui sola esistenza è un affronto a tutto ciò che è buono e giusto del mondo e in cui solo i pazzi e i disperati potrebbero anche solo pensare di entrare perché all'interno dei suoi tetrizzaloni è contenuta una conoscenza così corrotta e malvagia che liberarla potrebbe portare alla rovina e alla devastazione pochissimi di quelli che sono entrati al suo interno sono riusciti a uscirne e anche quei pochi erano stati per sempre distrutti dall'esperienza questa è invece la classica presentazione del nega dungeon il nega dungeon non è il luogo dell'avventura e della gloria è il luogo della disperazione e chi ci entra lo fa perché o è pazzo o non ha alcuna altra scelta se non entrare lì dentro a livello pratico parlando proprio di progettazione del dungeon questi due potrebbero essere due dungeon molto simili anzi in realtà potrebbe essere lo stesso identico dungeon semplicemente presentato dal master in due modi diversi quando parliamo di nega dungeon infatti non stiamo parlando di level design diverso o di sistemi di gioco diversi stiamo più che altro parlando di un insieme di elementi estetici che caratterizzano il modo in cui il dungeon è presentato dal master ai giocatori il nega dungeon infatti si differenzia dai casi dungeon più classici proprio perché non è pensato per dare un senso di eroismo e avventura nei giocatori al tavolo ma al contrario per mandarli in un mondo di orrore pericolo e paranoia che li metta in ansia durante il gioco tutto il dungeon verrà quindi descritto con toni più cupi e il master dovrà fare estrema attenzione a mettere enfasi su dettagli che magari spaventino anche proprio disgustino i giocatori nel nega dungeon non ci sarà una trappola botola che ti fa cadere per tre metri su degli spuntoni ci sarà un maligno congegno che spinge il povero sventurato a precipitare su delle punte accuminate e arrugginite in cui sono ancora incastrati i resti putrefatti del precedente sventurato che è passato da lì nel nega dungeon non incontrerete un orco che vi carica con la sua sciabola ma incontrate una creatura che lanciando un urlo belluino mulina il suo crudele spadone per cercare di decapitarvi ovviamente però questi elementi da soli non bastano un nega dungeon non è un normale dungeon che abbia avuto una pessima pro loco il master in fase di progettazione dovrà fare in modo di introdurre elementi e temi che rispecchino l'estetica che il nega dungeon comporta per prima cosa il tema che viene generato nel mega dungeon deve essere appropriato all'ambiente in cui i personaggi dei giocatori si muovono voi come master potete mettere tantissima enfasi sulle descrizioni degli ambienti ma se poi la storia è che i giocatori entrano lì dentro picchiano qualche mostro prendono un tesoro escono e vengono acclamati come gli eroi del regno non avete portato al tavolo un nega dungeon avete portato al tavolo un classico dungeon heroic fantasy mal che vada aggiungendogli qualche tinta orrorifica nelle descrizioni quasi sempre il vero tesoro in fondo al nega dungeon e il fatto di esserne riusciti a uscire vivi anche se probabilmente con grossi problemi psicologici che ci si porterà avanti per un po' e anche nel caso in cui gli eroi effettivamente escano con in mano qualcosa quasi sempre si tratta di oggetti maledetti conoscenze proibite e pericolose o in linea generare qualcosa che i giocatori dovrebbero domandarsi se effettivamente è un vantaggio per loro averla o se non è stato peggio e sarebbe stato meglio lasciarla dove l'hanno trovata uno dei trop più comuni che dovete tenere a mente quando progettate un nega dungeon è infatti quello che a differenza di un dungeon normale che normalmente è stato costruito per tenere al sicuro qualcosa o comunque per tenere il mondo all'esterno il nega dungeon quasi sempre è una struttura concepita per chiudere al suo interno qualunque cosa contenga quasi sempre diciamo che qualcosa di molto comune che alla fine della quest si scopra che anche solo il fatto che i personaggi abbiano aperto il nega dungeon abbia portato a liberare un qualche tipo di male che avrà poi delle ripercussioni nelle quest a venire per tutta l'ambientazione e non solo per loro è un discorso analogo fatto anche per gli abitanti del nega dungeon e per le vicende che stiano avvenendo all'interno quando i giocatori vi entrano i classici orchi che poi attaccano il villaggio o i banditi che rapiscono le persone non sono gli avversari che si dovrebbe trovare all'interno del nega dungeon sono cose fin troppo banali nel nega dungeon risiedono le creature più abominevoli e i deliranti cultisti che compiono sacrifici umani a entità che l'uomo non dovrebbe nemmeno conoscere diciamo che se ritenete che qualcosa dovrebbe richiedere un trigger warning prima dell'inizio della quest per avvisare i giocatori di possibili argomenti problematici ecco quel qualcosa probabilmente sta avvenendo nel nega dungeon al di là poi degli elementi estetici e narrativi proprio a livello di level design e progettazione degli incontri tenete presente che tutto all'interno del nega dungeon deve essere pensato per mettere ansia se non proprio spaventare i giocatori i dettagli di questo dipendono in larga parte da qual è il sistema che state effettivamente utilizzando per portare avanti la quest ma tenete presente che rispetto al normale dungeon il nega dungeon dovrebbe contenere meno incontri ma che questi incontri debbano essere più difficili magari non tanto per la potenza intrinseca dei mostri ma perché hanno abilità che possano mettere in crisi o comunque rompere il gioco del party e costringerli a stare sempre sulla difensiva molto spesso infatti un nega dungeon contiene anche una percentuale di trappole molto più alta nella media e queste trappole non sono tanto pensate per ferire i giocatori ma per menomarli dare ai loro personaggi dei debuff fargli perdere abilità fagli perdere oggetti in linea di massima tutto questo serve per fare in modo che anche un corridoio vuoto per i giocatori diventi un possibile nemico al di là delle loro possibilità e come tale ogni cosa venga poi affrontata con estrema cautela e paranoia sempre per lo stesso motivo molto spesso un nega dungeon è un reverse dungeon abbiamo già parlato in un altro video o comunque ci sono motivi o di meccanica o di storia per cui una volta entrati nel nega dungeon non è possibile uscirne fino a quando la storia non sia finita volendo riassumere diciamo che tutti quegli elementi che porterebbero i giocatori ad alzare gli occhi al cielo e a rimpiangere di essere entrati in un dungeon ecco quelli sono esattamente gli elementi che un nega dungeon necessita per mantenere il suo tema orrorifico ansiogeno chiarito cosa sia un nega dungeon prima di concludere dobbiamo fare un altro discorso cioè quello su che cosa non è il nega dungeon per via che il nega dungeon con le sue atmosfere orrorifiche sia progettato per porre una maggiore enfasi sul mettere in difficoltà i giocatori e proporgli anche scelte che possono avere gravi conseguenze e molto probabilmente è anche più rischioso di un normale dungeon è venuto a crearsi il mito che i nega dungeon siano effettivamente progettati con lo scopo di ammazzare i personaggi o in linea più generale annoiare i giocatori ora sicuramente un nega dungeon è un'esperienza di gioco particolare che pone più enfasi del normale sia sulla sfida che su prendere decisioni difficili che non è sicuramente adatta a tutti un giocatore inesperto o un giocatore che tiene particolarmente alle sensazioni di gloria eroismo del fantasy più classico potrebbe trovare l'esperienza di un nega dungeon sgradevole o magari proprio frustrante questa però non deve essere una scusa da parte del master per trasformare il nega dungeon in una stanza di tortura per i giocatori e non farlo un'esperienza frustrante o impossibile da superare perché ah questo è il mega dungeon in cui la gente ci viene a morire tutti i principi che valgono per un normale dungeon devono comunque essere rispettati il dungeon deve avere una sua coerenza interna la storia deve avere uno scopo un suo finale e gli incontri magari potrebbero essere meccanicamente più difficili o le risorse in manual party potrebbero essere più limitate rispetto alla norma ma questo non è una scusa per il master per comportarsi in maniera antisportiva nei confronti dei suoi giocatori o comunque per buttare via tutte le regole del buon masteraggio del fair play detto in parole molto semplici se state pensando di progettare un nega dungeon semplicemente per fargliela pagare ai giocatori non state mettendo in mostra le vostre abilità superiori come master con la progettazione di un nega dungeon siete semplicemente dei pessimi master frustrati e non dovrebbero farvi accedere ai manuali di gioco forse dette in questi termini è un po dura ma questo è un video sul nega dungeon che cosa vi aspettavate in realtà ci sarebbe ancora una cosa di cui parlare cioè quando il nega dungeon non è un singolo elemento all'interno è un'ambientazione di una quest ma rappresenta la totalità dell'esperienza di gioco però è un argomento lungo e lo tratteremo più avanti in un prossimo video per questo video invece è tutto e come sempre la parola sta a voi ditemi nei commenti qui sotto se voi avete mai giocato o portato al tavolo un mega dungeon se è stato effettivamente ansiogeno se alla fine l'esperienza si è trasformata in un normale dungeon e dove avete sbagliato o in che modo avete avuto successo come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo potrà crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate anche i link al gruppo i discord e al gruppo i telegram dove metto io manualmente i video quando escono e provate anche il resto della community nel canale io sono il master k e noi ci vediamo nel prossimo video